È un'opera attesa da decenni che ha elevato la qualità di vita e cambiato il volto della città. Si tratta della nuova rotatoria inaugurata nel pomeriggio di sabato all'ingresso di Marotta, nel comune di Mondolfo. Un'infrastruttura strategica di fondamentale importanza a servizio dell'intera comunità. Un percorso lungo e difficile avviato e sottoscritto nel novembre 2020 attraverso una convenzione tra ANAS e il comune di Mondolfo. Presente alla cerimonia di inaugurazione tra il pubblico, il direttore dei lavori di ANAS, gli amministratori locali, il sindaco di Mondolfo Barbieri e gli assessori regionali Aguzzi e Baldelli. Marotta-Mondolfo, questa parte di costa come la strada 424 della valle del Cesano è oggetto delle politiche della nostra regione. Torna al centro questa valle con investimenti di 13 milioni di euro proprio sulla strada statale 424, ma anche con la bretella che collegherà in alternativa la strada statale 16, Marotta con Fano dove la regione ha già stanziato 40 milioni di euro e tra qualche settimana l'inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale per un valore di oltre 4 milioni di euro tra Marotta e Senigallia. Quindi Marotta-Mondolfo un punto di riferimento importante per la valle del Cesano, una valle che torna al centro delle politiche della regione Marche. Un'opera che la città teneva davvero da tanti anni e che siamo riusciti finalmente a realizzare grazie ad un importante finanziamento da parte dell'ANAS, un grande lavoro di squadra insieme anche tra Comune di Mondolfo, ANAS e Regione Marche, è un'infrastruttura che sta funzionando, che ha migliorato davvero la viabilità, la sicurezza, che ha migliorato la qualità della vita dei cittadini, ha cambiato il volto di questa città, quindi abbiamo recuperato anche delle aree che erano in disuso da tanti anni, grazie all'acquisizione da parte del Comune di Mondolfo e quindi le abbiamo recuperate, abbiamo realizzato anche dei parcheggi a servizio dei residenti e delle attività e quindi davvero siamo molto molto orgogliosi, soddisfatti di questa infrastruttura, ci tengo a ringraziare anche gli uffici comunali, le imprese, i tecnici perché sono state davvero rispettate tutte le tempistiche che ci eravamo date, abbiamo limitato al massimo i disagi ed è venuta una grande infrastruttura. Un investimento totale di 475 mila euro, un percorso avviato e realizzato grazie al lavoro di squadra e sinergia tra gli uffici comunali e i tecnici con una sola finalità, migliorare la sicurezza e la gestione dei flussi veicolari rendendoli più veloci, essendo un punto di snodo tra la costa e l'entroterra. Un'opera già funzionante da fine maggio 2023, negli ultimi mesi completata con i lavori eseguiti. Grazie al lavoro di squadra si è ottenuto questo grande risultato. Sì, un risultato che attendevamo da tempo e devo dire che la sinergia tra amministrazione comunale e ANAS è stata molto elevata. ANAS ha realizzato il progetto e l'esecuzione dell'opera in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale che ha acquisito le aree necessarie per fare questo, con risorse di circa 200.000 euro, che ha reso possibile poi anche usufruire di aree che erano inutilizzabili e renderle disponibili per la cittadinanza e per le attività commerciali ripresenti. Una struttura che contribuisce anche a migliorare l'immagine del territorio, diventando un bel biglietto da visita per l'intera città. Il lavoro di squadra è stato importante, soprattutto partendo dall'amministrazione che ha voluto fortemente questo intervento, questa rotatoria, che ha risolto una criticità importante del territorio. ANAS per conto suo ha fatto la progettazione, sempre però interfacciandosi col comune, quindi cercando di calare nel territorio l'opera, rendendola idonea al contesto urbano. Poi si è occupata anche della realizzazione, io personalmente ho fatto sia la progettazione che la realizzazione e durante la realizzazione ovviamente non sono stati pochi problemi da risolvere, che però fortunatamente hanno portato poi alla conclusione dell'intervento, grazie alla collaborazione di tutti ed oggi siamo qua a vedere effettivamente come funziona bene la rotatoria, è risolto veramente un problema importante. Grazie.